Carlo Vicedomini con la maglia del Molfetta contro il Barletta da ex, che partita è stata? Sicuramente una partita emozionante, pronti via, sono partito con l'ex squadra che comunque sia nel cuore, quindi per me è stata una partita particolare anche se è un amichevole, però come ho sempre detto negli anni quando scendo in campo penso solo a dare sempre il massimo che poi sia un amichevole in una partita ufficiale poco importa, è stato bello ritrovare la gente di Barletta a cui sarò sempre legato e va bene così. La nostra come ben sapete è una situazione un po' particolare perché fino al 29 di agosto non è detta ancora l'ultima parola sul riprescaggio in Serie D, la società sta costruendo con cautela proprio per sapere in via definitiva quale sarà il nostro destino, quindi sta puntellando con cura e con un grande lavoro. Noi stiamo seguendo la lettera a ciò che ci dice lo staff tecnico, siamo un gruppo di ragazzi la maggior parte giovani ma che ha voglia, come avete visto stasera, di lottare. Queste partite servono per alzare l'autostima, è inutile nasconderci che sia un amichevole ma contro il Barletta comunque sia vincere contro una squadra del genere ci può dare consapevolezza del lavoro che stiamo facendo e noi dobbiamo continuare solo su questa strada e poi dal 29 agosto in poi vedere che campionato andremo a fare. Carlo, che Barletta hai trovato? Beh, un Barletta non lo dico io ma è una squadra importante, fatta di giocatori importanti, hanno un allenatore che lavora tanto sul possesso, molto preparato sugli scambi di ruolo quindi ci hanno messo in difficoltà proprio quando partivano dal basso, però come ho detto prima noi dobbiamo essere una squadra di lavoratori che sta lì, vive la partita per 95 minuti e cercando di sfruttare la qualità che abbiamo davanti, però il Barletta sicuramente sarà protagonista nella Serie D. Sì, ogni anno che passa mi dicono che devo smettere, invece devo rispondere là sul campo, per me è stato sempre il giudice supremo e secondo me chiunque scende in quel rettangolo verde deve sempre dimostrare come penso, ti accantonano e smetti, invece no, lavoro ogni giorno, sono sempre davanti a tutti, sono il primo ad arrivare al campo, è l'ultimo al darsene e questo lo farò fino a quando deciderò di giocare, perché di smettere deciderò io. L'ultima battuta dal punto di vista agonistico è stato già calcio, vero? Sì, sì, ma è giusto che sia così, perché devi entrare subito nella mentalità di andare a giocare un campionato importante, qualunque questo sia, sia eccellenza che Serie D, è un campionato duro dove in eccellenza ci sono due under, quindi saranno più grandi, ci sarà presenza di più grandi in campo, è la Serie D, lo sappiamo tutti che la maggior parte delle squadre giù rispetto all'anno scorso si sono rinforzate, quindi saranno due campionati tosti e questa è la mentalità che noi dobbiamo allenare ogni giorno e cercare di andare a mettere in campo la domenica.